Erano in tanti a pensare che gli accordi fra Barack Obama e Raul Castro, senza peraltro venissero tolte le sanzioni, che Cuba ormai era pronta a rinunciare la sua eroica avventura e a consegnarsi fra le braccia di zio Caimán? Io non ho mai creduto in ciò. Ho sempre pensato che il popolo cubano, per i dirigenti che ha avuto e per il tempo, ha avuto modo di capire, di conoscere tutti i trucchi, tutti i trabocchetti utilizzati dal mondo capitalista per soggiogare e sfruttare i popoli e che comunque sarebbe sempre caduto in piedi conservando la sua libertà. Di Cuba, infatti, si continua a parlarne. Nei giorni scorsi, per un fatto assolutamente inedito, inaudito, nel senso di mai sentito, Cuba ha ricevuto un incomio ufficiale internazionale. E quando mai? Il mondo si capovolge? No, si è trattato di una commissione dell'ONU, che fa eccezione, presieduta da una donna, che ha rivolto un elogio al governo cubano, dicendo che ha saputo prepararsi, in occasione dell'arrivo dell'uragano Irma, nel modo migliore. Ha saputo cantonare 1.600 tonnellate di genere alimentari, si è mosso con rare efficacia e organizzazione e i danni sono stati limitati come non è avvenuto da nessun'altra parte. Un incomio ufficiale a Cuba. L'altra notizia al limite del risibile. Il governo degli Stati Uniti si è lamentato perché il personale dell'ambasciata USA, che opera a Cuba, a Lavana, sarebbe diventato sordo, per una sorta di complotto. Il governo americano si affretta ad aggiungere che non può essere stato il governo di Cuba che ha tutto l'interesse di conservare buoni rapporti con noi, con gli Stati Uniti, ma qualcun altro, qualcun altro che si è valso chissà di quali sistemi, probabilmente utilizzando ultrasuoni per togliere l'udito al nostro personale. Intanto gli ultrasuoni sono facilmente individuabili, quindi scelgono un'altra pista. Ma poi soprattutto è il paese che viene sospettato di aver fatto ricorso a questo tipo di armi sudore insidiose. La Russia, via, diciamolo! La terza notizia è la migliore. Il primo ottobre saranno a Roma due dei cinque agenti antiterrorismo che hanno trascorso la bellezza di 16 anni nelle prigioni americane. Essi siano recati sul suolo degli Stati Uniti per capire chi organizzava i numerosi attentati su Cuba. Furono arrestati, incarcerati e processati con un processo farsa celebrato da magistrati falsari.